Con Elettronica Service la casa è ai tuoi comandi, servizio chiavi e radiocomandi per auto e cancelli. Elettronica Service, siamo in corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni, nei pressi dello stadio comunale. Seguici anche su Facebook. Conto alla rovescia per un evento dai seporintensi dell'arte. L'associazione culturale Serenity Art del maestro Vincenzo Femia e del direttore artistico Luca Puzza hanno organizzato a vetri sul mare la quarta edizione dell'evento Arte, Natura e Gusto. Una location d'eccezione, intrisa di storia e fascino come l'imponente Torre Crestarella, fiore all'occhiello di una costa da malfi ricca e rinomata in tutto il mondo, conferirà quel tocco di magia in più ad una giornata dedicata all'arte creativa. Un ricco programma che comincerà già nel primo pomeriggio. Difatti alle ore 15 partirà Artista per un giorno, un laboratorio di ceramica Raku, aperto a tutti, dove ci si potrà cimentare in questa affascinante tecnica, liberando la creatività e realizzando una propria opera. La Kermess racchiuderà in sé una moltitudine di momenti differenti. Dalla performing art degli artisti presenti, alla mostra collettiva d'arte contemporanea e alle divertenti e frizzanti esibizioni di burlesque e charleston degli allievi della scuola Professional Dance di Alessandra Vottariello. Arte, danza e musica, ma anche degustazioni di vini e prodotti d'eccellenza. Difatti, la manifestazione prevede anche una sezione che promette di soddisfare i palati di grandi e piccini, con bollicine e mortadella, un classico che potrebbe definirsi un evergreen e mai fuori moda. L'aroma del buon cibo, abbinato al gusto inebriante delle bollicine erpine e non solo, rappresenta un perfetto accostamento che permetterà di esaltare al massimo i sapori. Ad alietare gli amanti del buon vino, anche la degustazione dei vini premiati alla seconda edizione dell'evento concorso in Arte Vino 2016, tenutosi in Sorrento lo scorso luglio. Appuntamento da non perdere dunque, per vivere una giornata immersi tra arte, natura e gusto.